Ci si trova di fronte ad un caos agostano, ferragostano, che rientra in quell'eterno ricorso dei malanni italiani insieme alla calura, alle inondazioni e a tutte le altre questioni. È un tormentone che ogni estate torna, le nomine nel mondo della scuola, dai supplenti ai dirigenti scolastici poco cambia, il caos regna sovrano. Si intrecciano e si sovrappongono vari concorsi, addirittura ci sono i vecchi concorsi che iniziati l'anno scorso per docenti, per l'immissione al ruolo, che devono essere completati e espletati entro dicembre. E anche questi influiranno per esempio sulla nomina dei supplenti perché poi i nuovi vincitori di concorso dovranno essere immessi al ruolo. È chiaro che occorrerebbe porre mano a questa situazione con decisione e con coraggio e riformare il sistema di nomina dei supplenti e il sistema dei concorsi. Però questo coraggio al momento non è alle viste. E dunque anche questo anno scolastico inizierà con incertezze e confusione, cattedre che potranno essere assegnate anche a fine dicembre. Io leggo le cronache dei giornali e si parla di docenti in attesa di supplenza che o non fanno le ferie oppure rimangono costantemente in contatto online con l'ufficio scolastico regionale per sapere quali sono le novità. Non è un modo sereno di vita e alcuni di questi futuri supplenti hanno tutte le carte regola per insegnare e magari anche una profonda motivazione. Questa motivazione non deve essere tolta loro e purtroppo il sistema oggi è così farraginoso, malfunzionante che si corre il rischio anche un po' di demotivare per sapere quei giovani che invece vorrebbero dedicarsi all'insegnamento anche per una vocazione interiore, per un desiderio profondo, intimo.